La riforma del falso in bilancio che di fatto è stato reso inutile quanto a reato, non è stato cancellato il reato perché non sta bene dire che non è più reato fare i falso in bilancio, ma di fatto non è più punibile. Questa legge farà sì che tutti i processi per falso in bilancio finiranno in nulla o per prescrizione o per mancanza di querela o per mancato superamento. Vicenda SME a Milano assolto Berlusconi, era accusato di falso in bilancio che non è più reato. Processo SME assolto Berlusconi per il falso in bilancio, il reato depenalizzato nel 2002 dal governo di centrodestra.